sembrava che il confronto fra i bianconeri di bersellini e quelli di parola oggi in maglia blu dovesse finire in parità senza reti questa partita è attesa in romagna come il maggiore evento calcistico dell'anno c'erano tutte le premesse dello 0 a 0 il lungo equilibrio a centrocampo e le rare conclusioni ne erano un segno chiaro invece a quattro minuti dalla fine il cesena si è trovato sconfitto per un tiro di causio che è andato a infilarsi nell'angolino basso alla destra di boranga rete che sarà poi lungamente contestata il primo episodio degno di nota si è avuto al settimo minuto del secondo tempo quando damiani dopo un buon controllo in area ha mandato la palla stamparsi sulla traversa ha replicato subito il cesena con una veloce intesa fra toschi e rognoni zoff esce incontro rognoni e gli chiude la strada ed ecco l'azione che ha dato la vittoria alla juventus la rivediamo da un'altra angolazione sul cross di damiani zuccheri respinge corto di testa causio fermi il pallone col petto e batte con un tiro angolato il portiere boranga mancano appena quattro minuti alla fine e il cesena non riuscirà più a recuperare